musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xyuder e ragazzi mamma mia ieri è cominciata lo so che vi siete scassati di prepotenza a giocare a Fortnite ma ragazzi la nuova season è arrivata la nuova mappa è arrivata così come tutte le location che sono state introdotte e che oggi vedremo assieme un po' più nel dettaglio diciamo ragazzi che ci sono veramente cambiamenti meravigliosi incredibili sono sparite delle città questa ad esempio è laboratorio della latrina completamente innevata c'è un iceberg che l'ha distrutta e praticamente sommersa è rimasto fuori solamente il paracadute ma la vera città principale ragazzi è la nuova Pinnacoli pendenti così com'è già stata ribattezzata e come vedete ragazzi una city incredibile incredibile sicuramente quella con più loot in assoluto con più chest in assoluto edifici a profusione addirittura anche una torre dell'orologio che appunto l'ha soprannominata la nuova Pinnacoli pendenti come vedete ragazzi meravigliosa sicuramente un update un aggiornamento con la season 7 che davvero si fa sentire per l'importanza e l'imponenza 12 giga su Nintendo Switch di update 3 giga sul computer e altrettanti 5 giga sull'Xbox se non ricordo male come state vedendo ragazzi stiamo passando velocemente in rassegna tutti gli edifici e stiamo praticamente trovando quasi in ogni chest in ogni casa che entriamo 1 o 2 chest forse ragazzi non sapete però che ci sono anche dei segreti molti li lascerò scoprire a voi passaggi, posizioni un po' particolari dove trovare il loot intanto guardate che meraviglia ragazzi sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 sono 15 edifici più la torre del campanile e altre case sporadiche come state vedendo in questo momento sparse intorno alla mappa qua addirittura ragazzi hanno introdotto una specie di ski lift tra l'altro ragazzi una delle nuovissime cose che abbiamo visto nella season numero 7 è la zipline ragazzi tutti questi cavi che vengono tirati per tutta la mappa ci permettono di utilizzare la nuova funzione ne parliamo più avanti guardate qua ragazzi siamo dove ci sono le vecchie ossa del dinosauro addirittura nella ex season 4 e questa è la grotta segreta che possiamo trovare ragazzi dentro alla montagna scavata nei ghiacci con ben due chest uno qua sotto e uno qua sopra ragazzi che possiamo tranquillamente ottenere insieme a una cassa di munizioni il terzo chest invece si trova proprio qua in alto e come vedete ragazzi visto dall'esterno sembra un lago ghiacciato in realtà è una voragine che ci porta appunto alla caverna segreta uno dei posti più interessanti di questa nuova parte di mappa ma andando avanti ci sono anche degli chalet sparsi in giro abbiamo addirittura una pista da sci e non è l'unica ce ne sono parecchie sparse in giro per la nuova parte di mappa e ci fanno pensare che sia possibile magari durante la season ottenere gli sci o lo snowboard intanto vediamo un'altra cosa curiosissima che è il sottomarino anche che vi serve per completare l'ultima sezione delle sfide della prima settimana che ci porta ragazzi ad un'altra delle location più interessanti e più ricche di loot che è praticamente il piccolo complesso di hangar piccolo mica tanto che nasconde al suo interno un sacco di chest e un sacco di casse di munizioni per poter appunto atterrare ed avere subito un buon loot guardate qua c'era una zipline i pannelli fotovoltaici qua ci sono i due hangar principali con al loro interno sempre due chest uno e guardate le casse di munizioni uno in basso e uno in alto c'era un'altra cassa di munizioni là in fondo la pista per l'atterraggio e per il decollo non innevata e come vedete ragazzi sulle saracinesche degli hangar c'è lo stesso identico simbolo che abbiamo visto sulla spalla di AIM questo è un altro complesso il più grande in realtà l'edificio che racchiude al suo interno tutte le apparecchiature per il controllo dei velivoli e sicuramente ragazzi ci sarà a che fare con la storyline della season 7 sappiamo ragazzi che c'è questo babbo natale cattivo che è la skin che sblocchiamo nel pass battaglia ma sappiamo anche che ci sono due corporazioni segrete che stanno minacciando ovviamente il benestare della mappa una è quella di AIM e l'altra è quella che abbiamo già visto nella season 4 stiamo vedendo ancora le zipline e ci stiamo dirigendo ragazzi a quello che è il mistero più grande di questa season 7 ovvero sia ragazzi il castello del re dei ghiacci rimane alle nostre spalle stiamo dando l'ultima occhiata a questo complesso di hangar che è veramente molto molto bello una cosa mai vista su Fortnite ed eccolo qua ragazzi nella montagna centrale nell'iceberg più grosso appaiono le guglie e le torrette del castello del re ghiaccio come faccio a sapere che il castello è proprio suo? semplicissimo ragazzi stiamo vedendo lo stendardo che è l'unica parte colorata che fuoriesce dalla neve ed è lo stesso identico stendardo che c'è sul torace della skin del livello 100 del battle pass skin davvero bellissima e quindi ragazzi si pensa che con il procedere della season il ghiaccio si scioglierà intanto guardate che storia un focolaio azzurro bellissimo il ghiaccio si scioglierà e verrà rivelato sulla mappa questo nuovo castello meraviglioso a parer mio sarà che ho un debole in realtà per i castelli e per le cose medievali ma c'è anche l'ingresso quello che può sembrare essere l'ingresso principale con le due torri che anche al suo interno nasconde un paio di chest se non ricordo male dovrebbe esserci uno eccone uno proprio qui ma ce n'è anche credo un altro nella seconda torretta e quindi come vi stavo dicendo e come le alcune teorie stanno iniziando a girare su internet su reddit su youtube il ghiaccio di questa montagna enorme si scioglierà rivelando quindi il castello alla mappa e secondo me ragazzi il re dei ghiacci potrebbe essere in realtà una nuova storia addirittura per la season numero 8 tra l'altro ragazzi lo sappiamo mentre ci avviciniamo all'ultima parte interessantissima di questa mappa che è il lago di ghiaccio che ha completamente coperto il boschetto bisunto purtroppo ragazzi è sparita un'altra delle location storiche di fortnite quella che aveva il ristorante del durburger ne vediamo solamente forse vediamo si qualcosina no quello è il quello che stiamo vedendo in mezzo è il vecchio negozio la vecchia pescheria come la chiamavamo ragazzi che comunque è ancora in parte accessibile ora ci arriviamo sono rimasti fuori sono rimasti fuori solamente i tetti delle due case la casa rossa e l'altra casa mentre per tutto il resto non c'è stato nulla da fare ragazzi completamente trasformato boschetto bisunto in una mega pista da occhi una mega pista ghiacciata infatti quando ci andiamo sopra diventiamo anche noi appunto ghiacciati ci si ghiacciano i piedi e quindi abbiamo lo stesso effetto che la pedana congelante possiamo come vi stavo dicendo comunque accedere ancora in parte al vecchio al vecchio shop che oramai è completamente inagibile come vedete ragazzi riusciamo anche a vedere che il lastrone enorme di ghiaccio ha al suo interno il vecchio autobus e alcune decorazioni quindi ragazzi direi che per questa nuova season 7 si prospetta davvero tantissima roba relativa al ghiaccio alla storia che c'è con l'invasione della skin quella del babbo natale che adesso mi sfugge il nome che abbiamo visto nel trailer voler invadere quindi la mappa è probabilmente una delle skin che seguace del re dei ghiacci che potrebbe ancora essere addormentato o comunque in qualche modo intrappolato così come lo è il suo castello nella mega montagna centrale ragazzi questa era una carrellata di tutte le nuove location presenti nella mappa nella nuova parte della mappa perché ce ne sono ancora delle piccole parti modificate nella mappa normale tipo la tartaruga di metallo ma anche alcune nuove casette niente di eccezionale lascio a voi il piacere di scoprirle spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando un bel like iscrivetevi in tantissimi al canale e attivate la campanella per non perdere assolutamente nulla noi ci vediamo presto ciao